e adesso vi dedichiamo quest'articolo rivolto a vittoria de ganello ex corteggiatrice del programma di uomini e donne che ha avuto un figlio dal calciatore alessandro murcia che ha parlato del ritorno di fiamma del calciatore stesso con la moglie leonora mazzarini ricordiamo che infatti la stessa vittoria de ganello e il calciatore alessandro murcia hanno avuto in estate una relazione intensa anche se durata pco che ha portato la ex corteggiatrice a rimanere in stato interessante purtroppo è apparso subito evidente che la ex corteggiatrice e il calciatore siano rimasti in pessimi rapporti e anche con la sorella di lui ossia nico il murcia non sono mancate le frecciatine addirittura l'ex calciatore sembrava non volere riconoscere la figlia avuta da vittoria la cosa non sappiamo se ufficialmente è comunque avvenuta diciamo in maniera implicita dopo la sua nascita infatti solo dopo la sua nascita ha messo il nome di ginevra avuta da vittoria insieme al nome dei figli avuti con la mazzarini vittoria de ganello corteggiatrice uomini e donne ovviamente ritorno di fiamma fra murgia e mazzarini che è arrivato anche a vittoria de ganello che ha fatto un commento davvero tagliente su questo avvenimento ha infatti dichiarato a felici loro un facciamole un in bocca al lupo un commento davvero tagliente su questo avvenimento ha fatto un commento davvero